Io sono Eugenio Sgaravatti, siamo qui a Villa Iris, infatti c'è una fioritura di iris, se voi vedete qui alla mia destra abbiamo una bella fioritura di iris, perché mamma, che era una poetessa, era anche una ibridatrice di iris e ha fatto delle sue creazioni. Qui alle mie spalle abbiamo una mia opera che ha 5-6 anni, che è un'opera astratta, è praticamente un paesaggio astratto, con i colori più o meno del, potrebbe essere un autunno astratto e di un paesaggio toscano astratto. Oggi ho l'inaugurazione di una mia mostra che ha organizzato mia figlia Leonora, perché in effetti io sono reduce da un piccolo intervento che sono stato 40 giorni in ospedale, lei come regalo mi ha organizzato questa mostra, è stata molto carina, e ho radunato qui un sacco di amici che festeggiano il mio rientro dall'ospedale e le mie opere che sono da qui in una quarantina d'anni. Dunque, mia madre era una poetessa e in certo senso sono figlio d'arte, ovviamente, però avendo un cognome che è legato al florovivaismo italiano, al mondo del vivaismo e della produzione di sementi, ovviamente ho dovuto scegliere quello che i miei antenati hanno fatto per 5 generazioni e ho studiato agraria. Ho studiato agraria e ho avuto molte soddisfazioni anche con lo studio dell'agraria, però dopo, quando finalmente in certo senso sono andato in pensione, mi sono completamente dedicato a quello che più mi piaceva, che era questa mia vena creativa di dipingere e di realizzare dei quadri. Eccoci qua. Allora, siamo nella pineta del Parco Iris e ci troviamo davanti a un'opera che rappresenta dei pini di Roma. In effetti, qui bisogna dire che quando io mi sono messo a dipingere ho cercato di fare delle cose che non fossero già state viste in precedenza all'infinito, insomma, non potevo continuare a dipingere i girasoli. Allora, mi sono avvalso di queste opere, di questo supporto di metallo. In effetti sono delle lastre di stampa che usano i tipografi per fare voi dei libri come anche delle tavole pubblicitarie, eccetera, eccetera. Allora, su questa lastra di alluminio lavoro con il frullino e poi lavoro soprattutto con dei pigmenti in polvere che scolando giù dal supporto che ovviamente metto un po' inclinato in discesa fanno dei disegni abbastanza incisivi, abbastanza strani. Effettivamente poi ci ho figurato dei pini sopra e qui rappresentiamo un po' la pineta, la pineta di casa. Ecco, tutto qua.